Grazie mille. Daniele Monteleone, Partito Pirata. Poi parleranno anche i miei colleghi nel prossimo intervento. Comunque, una domanda che volevo fare a questo domanda, il conflittente è Riccardo Luna, perché tutti gli argomenti sono strettamente importanti, però ce n'è uno che forse è mancato, ovvero il ruolo, alla luce di quello che è successo in India, dell'adozione di BOSS, una Debian come sistema operativo istituzionale della pubblica amministrazione, il ruolo appunto dell'open source nell'istituzione. Cosa significa questo? Che oggi si spendono milioni e milioni e milioni di soldi per sviluppo di software per le pubbliche amministrazioni che rimane in possesso delle aziende che lo sviluppano, quando si potrebbero sempre dare questi fondi, per lo sviluppo di software che diventerebbe patrimonio dello Stato italiano, patrimonio della pubblica amministrazione e quindi capitalizzarlo in qualche modo all'interno delle nostre stesse risorse. Questa è, se vogliamo, una sorta di paradosso, però lancio qui così, diciamo, lo spunto e mi tolgo dalle scatole. Va bene un applauso invece della risposta? Va bene lo stesso, si capite? Va bene. Anche perché noi abbiamo approvato una meravigliosa norma che dice che prevede l'open source, adesso non la cita a memoria perché mai la conosce a memoria Flavia Marzano, ma però che mette tanti di quei paletti tali per cui alla fine non si prende più. Sarebbe obbligatorio come prima scelta l'open source, conosci bene la norma immagino, ma l'abbiamo scritta in maniera tale che non è applicabile, quindi va bene. Felice Zingarelli, un avatar del partito pirata, ci piacerebbe appunto che ci esponesse il punto di vista di un'organizzazione che è da molto tempo che riflette sugli equilibri di potere rispetto alla gestione di internet. Grazie. Grazie a te Arturo e ringrazio intanto tutti quanti, tutti i sopravvissuti fino a questo punto qui dentro, ma soprattutto un sincero ringraziamento a te per questo invito, oltre a un ringraziamento di carattere generale ad Anna Masera per tutto il lavoro che fa. Questa idea dell'avatar nasce da una modalità che fa parte del percorso mio, degli attivisti e dei pirati con cui ho portato avanti dinamiche di partecipazione e inclusive utilizzando la rete, insomma una grossa esperienza che ci siamo fatti sul campo commettendo anche degli errori e sperimentando invece delle modalità molto innovative. L'idea nasceva dal fatto di dare la possibilità a chiunque di raggiungere in qualche modo questo tavolo, questo forum con un'istanza che io avrei portato per loro conto. È un'idea che è venuta un po' fuori all'ultimo minuto nell'arco di due giorni in questo weekend, quindi sono stati abbastanza ristretti i tempi, grazie. Però sono stato inondato di proposte tramite il forum, che era la piattaforma che suggerivo per segnalare queste idee, ma tramite qualsiasi canale possibile immaginabile, da Facebook, via mail, Twitter, anche una telefonata ho ricevuto, insomma dovrei stare qui minimo due o tre ore per raccontarvi tutto quello che mi è arrivato, cioè questo è un segnale, un segnale di un grosso desiderio di partecipazione, quindi solo il dire vado in questo tavolo istituzionale dove c'è della gente forse con cui poter parlare di questa roba e forse magari una piccola percentuale di tutto questo arriverà in Brasile, al forum mondiale, sono stato inondato. Il tempo ovviamente non c'è per raccontarvi tutto questo, vi segnalo soprattutto un'istanza che mi è pervenuta, perché ce n'ho in mente una in particolare ma che ne rappresenta in modi differenti altre, che è quella proprio del metodo sbagliato, la modalità che non funziona, la distanza dai cittadini reali, stiamo parlando della rete, qualcosa che convolge tutte le persone nell'uso, nella sicurezza, nella propria privacy, in tutti gli aspetti della vita, sta diventando sempre più avvolgente questo ambito della vita, che non chiamerei più neanche internet, web, rete, network, ripescherei un termine che non a caso è nato dalla fantasia degli anni in cui la stessa internet nasceva, per cui per esempio la chiamerei cyberspace o piuttosto digitale, perché internet non è più solo quello che avevamo in mente un po' di anni fa. Posso solo rappresentare delle altre critiche, per esempio ho visto dei modelli proposti proprio dalla parte, una delle parti più forti forse in questo tavolo e quindi parlo di telecom, di confindustria digitale, un modello proposto già chiave in mano di cui si proponeva la condivisione per poterlo far diventare operativo. Questo è qualcosa di molto distante a quello che intendo io, ma anche le persone con cui vivo quotidianamente queste problematiche, è qualcosa di molto distante dalla partecipazione, dalla condivisione, dall'inclusione. Infatti l'istanza che mi è pervenuta, guarda caso da un anonimo, parlava proprio di, non di posto inclusivo, usava proprio il termine esclusivo, cioè questo è sintomatico di come viene visto questo posto che per vari motivi diventa inaccessibile per molte persone e rimane un posto riservato solo ad elite. Uno di questi è l'amarezza con cui è introdotto, cioè quindi dei posti non più disponibili perché prenotati da persone che non si sono presentate, che avevano una grossa responsabilità su questo discorso, fino alla collocazione geografica, i tempi, i luoghi, la modalità di presentazione, la modalità di invito. Insomma il mio tempo sta finendo, quindi vi dico solamente che, guarda caso, c'è chi sta organizzando un altro evento in concomitanza con l'Internet Governance Forum in Brasile, a pochi passi dalla sede in cui si citerà questo forum e si chiama Internet Ungovernance Forum, è organizzato dalla società civile, da semplici cittadini, da attivisti della rete. Nella stessa città in cui si svolge l'IGF, non ricordo il nome, manderò link, no infatti ecco è l'ultima cosa, utilizzerò tutto il materiale che è ben pervenuto, ne farò un collage, lo farò diventare un articolo scritto a più mani e i prossimi giorni lo pubblicherò, compreso i riferimenti. Certo, certo.